E bisogna sedersi a un tavolo e imprimere una svolta in quella direzione. Quello che a noi preoccupa è uno scenario che dobbiamo assolutamente scongiurare, tipo Afghanistan. Quindi noi abbracciamo l'escalation militare, andiamo sparati in quella direzione, ormai è quasi un anno, continuiamo a investire in quella direzione, noi però non siamo sistemi autoritari, siamo democrazie in Occidente, rispondiamo alle opinioni pubbliche, quanto a lungo le nostre opinioni pubbliche sosterranno queste escalation militare e accetteranno il rischio anche di una deflagrazione nucleare? Allora lavoriamo da subito per indirizzare una soluzione politica. In Afghanistan abbiamo lasciato ragazzi, donne, bambini a cui abbiamo creato un'aspettativa che adesso è rimasta tradita.